Per questo progetto vi servirà del pannolenci, forbici, ago e filo, metro da sarta, una tazza da cui prendere le misure e delle strisce adesive. Misurate la circonferenza della vostra tazza e aggiungete 2 cm per sicurezza quando andrete a ritagliare dal pannolenci. Misurate inoltre all'altezza della tazza. Con queste dimensioni ritagliate due rettangoli di pannolenci. Se la vostra tazza ha il manico come in questo caso ritagliate un'estremità più sottili in modo che passi attraverso. A questo punto fate un po' di prove per vedere dove vorreste posizionare la faccia del vostro animale, che in questo caso è un gatto. Per questo ho ritagliato due cerchi come occhi da del feltro marrone e due triangolini per fare invece le orecchie. Ho cucito gli occhi e con il filo ho disegnato sia il naso che i baffi. Sovrapponete i due rettangoli di pannolenci e cucite tutto intorno. Siamo arrivati all'ultimo step ovvero attaccare le strisce a strappo che nel mio caso sono adesive. Questo è quindi il risultato finale. Penso che sia un'ottima idea regalo sia per voi che per qualcun altro perché per gli amanti del tè serve sempre un'avvolgetazza per non scottarsi le dita. Lo trovo molto carino ed è super personalizzabile. Potete realizzarlo come il vostro gatto o realizzare qualsiasi altro animale. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!